Un segretario, ma solo un segretario, un segretario, ma solo un segretario. Aspetta, aspetta che c'è il segretario, devono dare una maglietta, e la da il masso di stella. Grazie a te. Ciao segretario, ciao. Abbiamo fatto la maglietta del circolo Mazzini, e c'è una frase di un nostro compagno che ci ha lasciato a settembre, lei è la moglie. Non sono un bel vederio, ma anche il segretario. I giovani si comportavano veramente bene. Esattamente, l'unica cosa che voglio dire dire il direttore è che un rapporto unitario è che loro si comportavano bene, e adesso hanno le nostre mani in guaio. Il nostro circolo è stato sedutario, dirigente, c'è molto prima che si cominciasse a parlare di quali del problema. Senza aromantare, no. Non si sa che ti rimetteva a sedere con un intervento in giro per ora. Ma dietro... Bene, ecco qua. Bene, grazie. Benissimo. Senza aromantare, ti raccomando. Questa roba di qua. Grazie